Ciao a tutti ragazzi! Allora, dopo moltissimo tempo faccio un video in italiano perché ho deciso che questa tipologia di video, dove diciamo sono leggermente più spontanea del solito non che io non sia una persona spontanea, però in questo video, che è appunto un video challenge che vanno un sacco questi video su internet adesso, vorrei farlo in italiano perché per me è più normale, ecco di cosa si tratta? Ok, si tratta di disegnare un qualsiasi personaggio che mi verrà scelto, non da me, ma da Matteo in questo caso siete bendati, quindi dovete disegnare bendati io non so se posso bendarmi perché avendo le lenti a contatto mi dà molto, molto fastidio però posso provare a disegnare comunque con gli occhi chiusi, comunque guardando verso l'alto cioè, è la stessa identica cosa ragazzi verrà una cagata sicuro in questo caso non lo sceglierò io il personaggio perché potrei diciamo scegliere qualcosa di semplice quindi lo sceglierà per me il mio ragazzo Matteo tadaaa ciao ok, Matteo, cos'hai scelto per la mia sfida? ok, quindi io posso scegliere solamente magari il tema, ecco vi ho detto di scegliere almeno un personaggio delle carte animati, dato che, insomma quindi vuoi sapere cosa ho scelto? dimmi che cosa hai scelto devi disegnare Eugene Philzembert ahahahahahahahahahahahahahahahahahah ma è difficile è difficile aspetta come si chiama nel film? Flynn Rider ecco perché in tutto il film si chiama Flynn Rider e poi vuoi Eugene Philzembert è meglio devi disegnare Flynn Rider Allora direi di iniziare La GoPro mi servirà per vedere Cioè per vedere la mia reazione Insomma che voi appunto Siate presenti Che appunto io non sto guardando Una cosa che non vi ho detto È che il personaggio che dovete disegnare Potete guardarlo, osservarlo appunto Memorizzarlo quindi Per almeno 30 secondi Se non ricordo male 30 secondi sì, ok va benissimo Eccolo Eccolo, la memorizza Come andiamo Aspetta un attimo eh Io mi chiamo filerale Come butta Va bene Vado Oh mio dio E iniziamo Allora io guarderò in alto con gli occhi chiusi Non mi bendo perché con le lette a contatto Mi dà fastidio, mi dà molto molto fastidio Quindi iniziamo Tito No non uso questa matita Usa una matita semplice perché altrimenti Allora siamo pronti per registrare Non c'è un tempo Nel senso che quando credo di aver finito Guarderò che cosa ho fatto E basta Giro Filmo che sto girando anche questo Quindi non posso assolutamente vedere Esatto Quindi iniziamo Partenza Sguardo in alto Usi in pizza Ok via Ok la prima linea è in alto Sì 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 All'uncchio Sì Oddio ragazzi Allora gli occhi erano qua più o meno No un po' più a sinistra Sì Sì Allora Dai non fa niente Un po' più a sinistra Qua Ok qua Poco poco più in là Ok lì Allora questo è l'occhio giusto E praticamente io ora farò Più o meno Sì Il Appunto il L'occhio insomma la forma Le sopracciglia le ho già fatte Una in camorata e una più su Esatto Sì Brava Quindi E' ripassato il sopracciglio E' sorriso Ok iniziamo a colorare Adesso Guarderò che colori mi serve Ecco Mi serve il marrone per i capelli E inizio con i capelli Che dovrei aver fatto un po' più su Quindi qua Gli occhi Che colore ha gli occhi Flynn? Un colore qua Neri? Un verde miele credo Ah no Nemmeno che sia stato l'immagine Vabbè il viso Il viso Non posso colorarlo con facilità Perché Comunque Allora Questo dovrebbe essere il sorriso Sì E il naso è qua Credo O più in qua No No Dove è la prima Ok Poi La maglietta Io non so che colore lui abbia la maglietta Vabbè è una maglietta Eh Quindi insomma Sarà veramente fantastico questo disegno Me lo sento Ah se facciano la maglietta adesso Sì È straordinario com'è Ragazzi Gli occhi Gli occhi Gli occhi li faccio verdi Perché non so esattamente che colore li ha Sì 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 Allora Penso di aver finito Quindi Andiamo a vedere il risultato Ok Aspetta un attimo Dimmi quando posso aprire gli occhi Quindi questo è il risultato Un attimo Ok Voglio Quindi questo è il risultato No togli quelle Questo è il risultato Bene Brava Debbie Grazie Apro? Sì sì Picasso Fai Ok Come c'è? Il sorriso era perfetto Teo Il sorriso era perfetto Peccato che non è anzi Guarda gli occhi Gli ho fatti Cioè ragazzi Sì Ero convinta Più o meno Di andare bene Sì Grazie per la partecipazione tesoro Niente Ok Allora Io Sono stata fantastica Secondo me Cioè ma secondo te questo è il disegno di Queen Rider? Vabbè Sì avevo un po' l'esercito Riccatevi che se volete vedere altri disegni fuori di Youtube Eccetera eccetera Potete seguirmi sia su Facebook Sia su Instagram Dove rispondo spesso anche ai messaggi Non sempre però spesso Cerco di rispondere il più possibile Non è facile ragazzi Ok vi mando un abbraccio gigante Al prossimo video Ciao Ciao ragazzi